... Undicesima stazione, Gesù è inchiodato sulla croce. Chiamiamo Cristo e ti benediciamo. Perché va passando a croce dentro il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo, al di sopra del suo campo posero la motivazione scritta della sua conanna. Questi è Gesù, il re dei giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.